L'emergenza migranti continua, proseguono gli arrivi sull'isola di Lampedusa, lo spot ormai al limite della possibilità di accogliere ulteriori altre persone. Ieri sull'isola, visita in attesa, visita lampo del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Un esodo inarrestabile di barchini diretti a Lampedusa dalle coste della Tunisia. Nella sola giornata di ieri sono stati 19 gli sbarchi che hanno portato sull'isola un totale di 700 migranti. Uomini, donne e bambini partiti da sfax e soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera. Dopo gli ultimi trasferimenti sono ancora oltre 2000 le persone che affollano l'hotspot di nuovo al collasso. In mare ancora, morti e dispersi. I migranti raccontano di aver raggiunto l'Italia con navi madre, pescherecci da cui poi sono stati calati in acqua i barchini di 6-7 metri che la procura di Agrigente ha battezzato bare galleggianti per la scarsa tenuta del mare. Per queste traversate, i migranti, quasi tutti dell'Africa occidentale, hanno pagato quasi 900 euro a persona. Sull'isola, ieri è arrivato il ministro dell'interno Piantedosi, che accompagnato dal commissario per le emergenze a migrati Valenti, ha assicurato una gestione più ordinata dei flussi che sollevi Lampedusa dal peso dell'emergenza ormai cronica. Nel frattempo, le ONG, nei giorni scorsi, hanno lanciato l'allarme di un nuovo esodo legato alla crisi che si è aperta in Sudan. Secondo l'UNHCR, in 20.000 si starebbero già spostando dalla regione sudanese del Darfur per cercare il rifugio nel vicino Chad, che già ospita 400.000 profughi sudanesi. Questa mattina, un'imbarcazione con 1.687 civili in fuga dalle violenze in Sudan ha raggiunto le coste dell'Arabia Saudita. In giornata, a Fiumicina, arriveranno con un volo di linea dell'Etiopia Nair Lines, proveniente da Addis Abeba, 67 rifugiati dal Corno d'Africa. Si tratta del primo viaggio, reso possibile dalla firma del terzo protocollo d'intesa tra comunità di Sant'Egidio, conferenza episcopale italiana e governo per l'apertura dei corridoi umanitari dall'Etiopia.